Poi è napoletano sei tu? Tu? 19. Lui è ballateso eh? Che vuoi dire? 18. Non so perché non so dove trasferirmi adesso. Eh no, tu devi votare, voterai con la vecchia residenza. Ti stai trasferendo adesso? 18. Allora, il municipio è un altro municipio dove non c'ho il candidato, un altro uno. 19. 19 o c'ho Buttarazzi? Non ce l'hai visto. Ah, però attenzione, mi dia il fogliettino, perché gli scrivo, il municipio quarto, che fa riferimento proprio a lei, aspetti eh, abbia pazienza. Ma questa è una potenza. Eh, una potenza, fa un po' crollo però eh. No, dai, fiorè, fiorè, ma scherzi. Sono stanchissimo come te, dalle 7 a stamattina, però i migliori sono qui. E il tuo maestro a che ora si alza? Qualcuno mi ha... E il tuo maestro a che ora si alza? Che si alzava sempre alle 2 di notte. Qui è professore... Alle 2 di notte. Come fa? No, sempre. A vincisarola. Un'abitudine. Eh, quasi l'altro. Signor Lange, stamattina mi sono signor Lange. Non ci sono cargati. Ah, è come... Giuseppe. Amico, amico. È un reggista, sta partendo, non è un reggista. Il mio collaboratore, amico da tanti anni, giurista, giusto? Poi, che più, scrittore, giornalista, anche questo è vero, astrologo, astrologo, astrologo che scrive su Astra. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!